Come ogni martedì andiamo a vedere la situazione della criminalità nella nostra città grazie alla collaborazione con Mindcrime. Il primo grafico illustra complessivamente l'andamento dei crimini nel corso della settimana appena trascorsa, suddivisi per categorie di reato. Si può notare una netta prevalenza di eventi definibili come minacce alla sicurezza pubblica, mentre le restanti categorie mostrano una statistica più contenuta. Il secondo grafico mostra invece che la giornata maggiormente interessata dagli episodi criminosi è stata quella di giovedì 16 marzo. Infine, in relazione alle zone in cui si è concentrata la maggior parte dei reati, si segnalano zona Duomo e stazione centrale. Grazie a tutti!